welcome to mirror tv ragazzi sono qui per parlarvi dell'ultima puntata di dynamite sono ovviamente poi non ci mi stava guarda male in compagnia di queen of the universe che notate che non nemmeno mi si è inculato una maglietta gli sta pure un po' strettina infatti si vedono i pentorali però vabbè me la spormi basta che si vede un po' la panzetta me la sporma hashtag me la sporma comunque ci stanno certi lottatori che hanno una panzetta sono fighi li citeremo anche però detto questo a parte la parentesi la maglietta tra l'altro young bucks young bucks eredoci davvero da una grandissima prestazione in questa puntata ma ci arriveremo piano perché voglio fare un discorso sul match dei young bucks prima parliamo ragazzi dell'open challenge di cody rhodes che ha difeso il suo titolo tnt dall'assalto di eddie kingston e devo dirvi la verità nonostante non sia un gran fan dei match che poi non sono stati tanti a hardcore diciamo la verità l'hanno spacciato così web web era spacciato come chissà quale match però c'è da dire questo siamo tornati a vedere della roba che durante le puntate settimanali non si vedevano da secoli puntate settimanali occhio non proprio da secoli quindi importante questo match di cody contro eddie kingston che tra l'altro peo è arrivato e ha fatto un ottimo promo prima di sfidare cody si si è presentato molto cazzuto molto provocatorio cody è stato lì un po da cagnolino abbastonato si stava prendendo tutti gli insulti dicendo niente ok sei un figlio di mignota ok vabbè giusto così finché è arrivato a un certo punto ha detto invece di prendere il microfono e di spondergli o di attaccarlo in qualche modo non ha detto senti ma iniziamo il mezzo perché voleva mettergli le mani addosso cody c'è tra l'altro questo eddie kingston ce l'aveva molto con nanderson che tony khan lo paga per proteggere il culo di cody rhodes oddio a volte non lo fa a volte lo fa male però diciamo che a volte pure lo fa io volevo far notare anche questa cosa in un match hardcore dove arlander sol poteva fare qualcosina di più non ha fatto proprio niente arlander sono totalmente inutile ma sto ragazzetto che in realtà non è un ragazzetto poi non è e si è comportato molto bene tra l'altro ha fatto quello che doveva fare brian keggio brian keggio non ha fatto si è presentato katsudo e era voglioso di mettere le mani addosso a cody di prendere il titolo è stato dominante a tratti ok che poi cody ovviamente ha dominato tanto match proprio non sei mai reso cosa che ha fatto che ha preso subito le botte zitto e muto e se effetto continua a pista mentre questo eddie kingston ragazzi ci ha messo del suo ha fatto le sue belle scorrettezze la frustata con la cintura e scorrettezze fino alla certa perché era non disqualification ma è voluto proprio no no però è stato voluto proprio da tony khan e io ho ottenuto l'occhio per fare un disqualification match contro i day da tony khan quindi sono pronto a farti il culo con le mie con le mie idee e la sviluppare stede ha pure scoperchiato tutto il bordoring per cercare di buttarci i cody sopra senza protezione poi ci ha finito lui e va bene ha usato le puntine l'ha tirata e vuoi e c'è pure riuscito a sbattere i cody sopra le puntine che io tanto odio quando invece era moxley dietro al backstay facevano sì che bello le puntine tanto le odio però c'è riuscito ma nonostante tutto ragazzi cody ha mantenuto il titolo riuscendo a far cedere il caro eddie nonostante poi tutte le puntine ficcate l'app e la schiena giusto anche la chiusura di sottomissione anche perché cody ha lavorato più volte durante il match su sta cavolo di gamba dopo il suisse dive ha iniziato a zoppicare il nostro caro eddie kingston ha iniziato a zoppicare lì cody ha zaccagnato su quella gamba anche perché ripeto eddie molto più guerriero rispetto al cage che a me guarda mi rimasto qua cage che comunque cody dominava il match gliene ha date tante ma lui si rialzava e provava di tutto cioè ha provato con le puntine ha provato a sbatterlo per terra e l'ha pistato con la cintura cioè insomma l'ha provato guerrier bravo caro mi sei piaciuto un sacco complimenti completamente d'accordo con te no io rimango davvero compiaciuto anche dal finale qua mi è piaciuto ci voleva tanto brian cage perché il match secondo me è stato costruito davvero molto bene perché poi magari uno si aspettava che cody non finisse sulle puntine perché c'è sempre questa regola chi piazza l'oggetto poi ci finisce sopra invece finisce sempre moxley no ma con cody e moxley potete stare tranquilli ragazzi che cody e moxley hanno un abbonamento appena aveva uno strumento se l'hanno messo loro non l'hanno messo loro ci si buttano sopra anzi che cody ha perso solo un po di sangue dietro la schiena con tutte le puntine io odio le puntine però ecco il finale è stato molto bello perché come dicevi tu ha seguito lo storytelling della contesa con questo problema di anity kingston alla gamba cody ci ha giocato sopra gli ha fatto la figure for the lock ha ceduto bene tenuto il titolo bello mi è piaciuto tutto 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 beh anche il post match del ragazzo che comunque è andato via però gli eroteva il culo cioè guerriero fino alla fine ho ceduto non so se l'hai visto ha fatto un promo post puntata molto emozionante no l'ho visto ti conviene guardarlo perché è stato molto emozionante ma è stato bello pure come si è presentato anche quando ha detto no cody rilassati perché cody iniziava a essere esagiato no rilassati perché questo è il mio momento boffarlo devo finire per là poi faremo il match bravo questo ragazzo ma lo prendiamo no ci siamo presi solo di chi sa anche no perché dovrebbe essere sotto contratto non lo so non lo so vediamo un po come sta poi l'ho detto c'ha un background importante kingston il part ring of honor nwa bellissimo bellissimo molto importante non parlare della cizzata ma quella è un'altra roba detto questo parliamo di due promo prima quello di john moxley che sembra avere ancora un po con brian cage moxley va a dire di aver goduto molto di aver sentito praticamente il braccio di brian cage distruggersi sotto i suoi colpi se non sbaglio ha detto proprio questo l'ho detto anche con una faccia compiaciuto moxley si eccita molto sentire gli arti di avversari staccarsi dal corpo per colpa tra virgolette sua quindi effettivamente torno a dare ragione a moxley a taz ha rotto le balle fin troppo tempo sul fattore brian cage titolo e quindi c'è stato moxley io glielo voglio staccare quel diavolo di braccio perché pure lui non lo supporta più quindi è stato un promo secondo me molto buono questo di moxley però non capisco perché vogliono ancora provare a metterci in testa che cage potrebbe andare contro moxley a all out io mi auguro questo che a me che non mi convince non mi convince come se fosse stato brodie lee forse gli avrei dato un'altra chance ecco a brodie lee l'avrei data volentieri un'altra chance a cage no perché ripeto non è stato all'altezza di quello che ci ha raccontato per tanto tempo quindi frank che già stato non mi viene di vederlo secondo noi è sempre che se qualcuno ha questo briand cage c'ha pure già i posti in camera possiamo capirlo e però è bravo lui perché l'unica contesa buona che ha fatto è stata quella dell'addermatch lì è stato molto bravo dicevo grandi aspettative che poi non ha rispettato e quindi se mi vai a fare ancora briand cage moxley a me non mi frega niente non mi frega proprio nulla curioso invece il fatto se vogliono fare un number one contender match tra cage e ali sarebbe molto curioso perché lì potrebbe uscire il super spot per uno di due ma questa è un'altra storia ne parleremo dopo mjf mjf fra un proprio contro jungle man lo ha definito così il buon jungle il buon mjf stesso tra l'altro però c'è da dire questo ragazzo risponde per le rime mjf come si chiama griff carison e vorrei far notare che sto ragazzetto zitto zitto che ragazzetto pure lui però il ragazzetto e sta prendendo un sacco di spazio sia nei dark sia con mjf perché gli hanno fatto fare una parte importante all'interno del segmento perché sono un segmento non un match ma lo stesso bing delete ha fatto vari cammei all'interno di bing delete quindi zitti zitti qualcosa per sto ragazzo ci deve essere sotto perché se lei presi gli spazi cioè li sta prendendo ora non so cosa vogliono fare dove vogliono arrivare ma fatto sa che a qualcuno piace perché se no sarebbe stato trattato come tutti gli altri jobber e invece qua ha fatto pure un'ottima figura andando a far notare a ricordare mjf che lui effettivamente ha perso perché tutto il grande segmento promo di mjf era sul fatto che lui intuzzicava che non è stato mai pinnato è imbattuto in ovelit e proprio il nostro già caro jungle man mi piace chiamarlo jungle man e li va a dire guarda che tu a fighter fest hai perso e lui li è esploso e tutto questo segmento match si è incapunito proprio quello lui voleva far dire al caro griff che è imbattuto e griff non cedeva dicendo no tu tu hai perso fighter fest e allora gliene dava altre poi alla fine insomma quando non c'era più niente da fare proprio griff ormai era assolutamente distrutto vabbè c'hai ragione tu sei imbattuto e occhio perché queste sono frecciatina wordlow perché wordlow è stato pinnato e ogni volta mjf sta cosa del io sono imbattuto la fa quasi a frecciatina contro wordlow per schernire l'uorlo secondo me sono delle frecciatine grosse come la trave c'hai fatto caso che mjf ha chiuso la contesa con una file driver una variante file driver invece che la sua vecchia manue sottomissione chi lo sa se hanno sentito qualche parere di qualche fan non dico manco il nome perché sennò poi no si sono bello è arrabbiato mjf questa cosa è lui che c'è rode che ha perso quel match infatti non vuole accettarlo che l'ha perso e dà la colpa a wordlow è importante sta cosa che se riescono a costruirla bene potrebbe essere un match da all out questo wordlow contro mjf sto pensando anch'io altro che moxley moxley mjf e moxley non mi esprimo però prima o poi wordlow se deve svegliare dice oh ma hai rotto il cazzo mjf e l'hai perso pure tu il mezzo non puoi da sempre la colpa a me e chi lo sa chi lo sa sarebbe molto interessante bello mi piace sta cosa altra promo stavolta della dottoressa baker che tralasciando i paragoni con michael jordan direi che se ne esce con un'affermazione molto importante ho detto che farà il più grande come back è il più grande ritorno di sempre nel mondo del pro wrestling chissà cosa davvero farà la becker perché abbiamo visto tanti come becca addirittura certi mi come che sono riusciti anche a vincere i titoli direttamente non so se la beckeri vogliono dare questo ruolo qui fatto stacca a me la dottoressa baker mi fa troppo impazzione questo con questo ruolo che le stanno rispettando nonostante l'infortunio problemi a naso quello che è bello molto bello sì ancora che va a riproporci il fattore della cospirazione contro di lei non l'elite dove tutti vogliono infortunarla per lei si è rirotta il naso dopo uscita sono ancora infortunata con sto naso quello che mi fa storce il naso di Olau è che c'è la c'è la swall in mezzo quindi deve fare il match con la swall non può andare per titolo a meno che la swall non riesce anche a partire prima però ormai ci siamo arrivati Olau settembre un mese e mezzo due in genere storia di Olau settembre però no bello ragazzi brit baker è ancora insostituibile nonostante lei sia infortunata vuol di tanto continuiamo a dirlo è così purtroppo parliamo ancora delle donne facciamo un po' il salto poi riprendo c'è stato secondo me un match che non è uscito affatto bene mi riferisco a ivelis velez contro la tua preferita diamante perché la mia preferita non lo so non uscite così secondo me qualcosa non ha funzionato una certa vedevo tutte e due chiamarsi lo spot ci sono vasto molto male perché a me ivelis velez mi piace la conosco da parecchio tempo ho visto qualche suo match nelle indie era una di quelle insieme a emma che abbiamo abbiamo visto nella battle royal e che io ci puntavo davvero tanto mi auguravo che l'orelite la ingaggiasse però diciamo che qua un po stonato non so se è colpa sua per colpa l'avversario anche se ci rimasto un pochino male perché comunque mi fa strano dire che lui e due non avessero alchimia hanno lavorato insieme fuori dalla all elite wrestling quindi non so cosa non abbia funzionato fatto sta che non mi è piaciuto poco però di rubo solo poco tempo per dire che ha vinto dopo un bruttissimo match secondo me la buona diamante con roll up della rapina chiamano sempre così rap di rapina un po furbo nulla di che uno due tre sì a me il match non ha convinto per niente diamante aveva preso una vittoria a dark se la ripresa pure qui a dark anamite non lo so in tutti io ho detto ah no i felissi felissi io l'ho guardato ho detto boh match molto macchinoso ma io ho preferito molto più quell'altra comunque poca roba cioè non è da da ammazzare da buttare però poca roba poca roba ma parliamo di un'altra cosa che io mi stavo a mettere i mani nei capelli che pensavo volessi parlare di quello hanno annunciato che quest'estate ci sarà un super mega torneo tag team per le donne ah no signori io c'ho il terrore perché non sono riuscita a costruirli in singolo mo le vogliono costruire in coppia ma secondo me parti troppo ma se non ci sono riusciti a costruirli in singolo ma in coppia 16 donne dove le pigli 16 donne dove sono queste 16 donne io ho un po paura poi vediamo io sono fiduciosa perché i tornei li hanno fatto tutti bene sono stati un sacco di tornei non l'elite tutti belli però qua sul fatto di mettere 16 uomo dove sono e poi non hanno delle gimmick ben definite come fai ad accoppiarle se non nelle nightmare sister che però tutte le altre tutte le 14 potrebbero perderà il finale ho un po paura cerceva andrei con i piedi di piombo spero vada bene spero che possono partire belle storie però non so c'è una coppa in palio questa coppa potrebbe essere molto interessante anche per l'eventuale stable di qualcuno magari per l'inner circle di accorda che c'è la nostra coppa cioè io penso che si possa costruire qualcosa anche per la stessa vicky guerrero che potrebbe andare in giro con questa coppa grazie alle sue ma chi ci metti coppia te preoccupa te preoccupa che ho già visto qualcuno a strizzare l'occhiolino io e vicky guerrero in rose non lo so io avrei fatto un torneo per le donne in singolo perché le donne stanno messi male sui personaggi avrei preferito fare qualcosa in figlio e costruire qualcosa do fiducia alle donne non do fiducia anche in omega che pure qua non mi è piaciuto per non l'idea della coppa e l'idea del fasto match e qua tra i velis e diamante e di che parliamo ah no nuovamente di brian cage non entri brian cage che stavolta ovviamente fa un promo mentre il promolo fa tess va a spiegarci perché ha deciso di lanciare il panno anche se ha ammesso che questi sette giorni sono stati molto difficili perché è andato a discutere più volte con brian cage non sono venuti alle mani però alla fine tess ci spiega il perché ha lanciato questo panno non voleva che il suo la sua macchina brian cage si rompesse nuovamente il bicipite quindi ha avuto paura che la sua macchina si danneggiasse nuovamente e per questa la mia indicazione è data diciamo che ci sta ci sta perché c'è sta sto gioco di parole che lui non voleva che si rompesse la macchina bellissimo però sì il match è stato per me una cagata pazzesca a prescindere questo sostanzialmente nulla di nuovo perché seguite un minimo i social di brian cage e taz era tutto valese perché proprio brian cage aveva fatto i twitter contro taz che aveva pensato al licenziamento e taz che spiegava questa cosa no io l'ho fatto per preservare brian cage non lo so mi aspettavo qualcosa da diverso mi aspettavo che brian cage parlasse questo giro e invece no vogliono ancora riproporre e poi ci rimettono in mezzo mox io ho paura che vogliono fare un secondo ma prima prima di arrivare a mox c'è allen che interrompe i discorsi di taz si avvia perso il quadrato ma derby allen viene attaccato da dietro da un uomo che noi avevamo già promosso l'open challenge di goddy rose vero ricky e starks signori tutto questo si è svolto ma insomma attaccato questo che vampo e l'amorosa presuoli tutto questo nasce da dark nel mio momento di dark c'è stato anthony non mi ricordo chi contro derby allen che poi è stato attaccato proprio da cage e da ricky e ha messo anche se c'era ricky parlò con taz in altro dark si piace l'occhiolino a me ricky non l'ho bocciato coccoti però non mi sta convincendo non mi piace la compiata cage ricky però hanno ripreso tutta la story line e si arriverà a un due contro due settimana prossima tra moxley e allen moxley e allen comunque la story line che dovevo fare ma ti ricordi che su ricky rischia neanche nel mn event è quello a me ricky non me convince e me l'hanno ficcato cocchieggio con moxley con allen questo mi finisce il mn event anche se non ci andrà nel mn event perché te lo dico io potrebbe essere l'opener della segnalata nel mn event del 5 contro 5 c'ho stavaga idea c'ho stavaga idea che sarà così però me hanno convinto tra l'altro moxley è arrivato a salvare allen dall'assalto di brian cage e ricky stars bello cioè ci sta io non mi piace la copiata di ricky e cage cioè preferivo lenz archer che lo sta facendo un cazzo posso fare subito lo sfogo su lenz archer non ne parliamo di lenz archer non fa un cazzo da double or nothing che adesso lancia gente a caso anche oggi ha lanciato nel senso letterale le lancia letteralmente gente a caso e invece cocchieggio mi ci metti ricky ma cristo ma metteci lenz archer ma c'ha manager archer ma si gran cazzo ma mi porti mi porti allen cage che ormai è scritta e mi porti moxley moxley archer invece no rischiamo di rivedere ancora cage moxley oppure allen cage appena title shot e già lì è un po meglio però cristo archer mi fai ridere il culo ma me archer per me questo archer non è da ridolo massimo quindi sono contento che abbiano mandato ricky almeno cresce un pochino archer ha uno status che quello che non ne volevo ho scritto evitiamo di parlare di noi evitiamo di parlare di no no io ne parlo chi mi sta sul cazzo parliamo ora invece di qualcos'altro ovvero di chris gerico che si ritrova a fare un promo dove ci ha anche spiegato il perché del merevent che c'era sfuggito settimana scorsa chris gerico si è presentato con la sua giacca completamente arancione se non sbaglio e ha detto che questa cosa l'ha un po triggerato perché non è andato proprio giù quello che ha fatto ranch custody e la farà pagare addirittura dice che lo manderà l'imbarazzo gli farà provare dell'imbarazzo stessa cosa stessa sorte che sarebbe aspettato ai jura xx express nel merevent perché si sono messi a ride a crema pelle per quello che è successo alla povera giacca di gerico e tutta l'inner circle giusto è carino intelligente per costruire un merevent un minimo di senso gli eredato e poi comunque jungle express con l'inner circle hanno comunque delle storie sotto quindi non è totalmente casuale poi il match è stato molto bello poi smaccia ancora di più ma ci abbiamo prima da parlare di altre cose sì ovvero young bucks che sono andati a trovare in macelleria bachelor e blade che stavano lì tagliando la carne ma perché bachelor e blade stanno sempre a tagliare le carne ho capito che sono macelleri ma perché loro dovrebbero stare a dynamite a tagliare le bistecche non è la prima volta bellissimo ti ricordi quello che è un gem che stavano a tagliare pure questo e io lì mi chiedevo ma che ruolo aveva ali nella macelleria ali scusa nella macelleria effettivamente non serviva un cazzo ali ma perché davano tagliare le bistecche a dynamite bellissimo come iniziato raga io mi sono messo a ridere dal primo momento poi però siamo iniziati a farsi sul serio perché una volta che si sono puliti le mani bachelor e blade arrivato l'arbitro ha iniziato lì la contesa e ho detto ma cazzo questi soffogli ho smesso da ridere che poi ho iniziato a vedere young bucks che saltavano da un muro all'altro se non aveva delle scimmie perché facevano delle cose che io mi sto a chiedere se ci provo io può essere cascar muro ma insomma qualcosa di diverso sfruttando anche strumenti che erano lì la carne il bancone dove c'è finito sopra blade se non sbaglio è successo di tutto e non hanno sfruttato bene e l'ambiente hanno creato qualcosa di diverso perché proprio il ring non l'hanno visto cioè i bucks incazzati con bachelor blade che l'avevano presa a parole sempre a dark hanno detto ok volete una disqualification volete un tornato ad un false content anywhere volete un tornato da bene facciamolo sono arrivati proprio loro incazzati con l'arbitro mi è piaciuta tantissimo questa cosa poi lì ha di sta cosa con la carne ma che cazzo tagli la carne a donut lo schiaffeggio con la carne il parcheggio quelli che fanno schiaffi sul carrello niki che si lancia da dentro un furgone dove era stato buttato all'interno bellissimo con lo sport nick che viene scarimentato sulla faccia del suo cartellone cioè nick bellissimo ma poi ma poi super kick di uno dei bucks a blade sulle scale mobili bellissimo io non so perché ma ho pensato tantissimo allo stampid avevo lo stesso ritornio dello stampid un false content anywhere quindi vale tutto il luogo si esatto dove potete utilizzare tutto e l'hanno fatto con un velo di ironia pure ma anche con questo alcuni spot t'hanno fatto proprio ridere anche con questo per me lo lascio dire il criterio c'è quello che mi hanno inquadrato per due minuti blade che saliva sulle scale mobili bellissimo l'ho trovato fottutamente innovativo da proporre così in maniera facciata su tnt che è una mittente visiva importante proporre questa roba che è uscita benissimo che fa sì poi secondo me se tu guardi la puntata di complessiva di dana mentre ascolto un attimo da sto match secondo noi abbiamo visto di tutto sia stato la violenza proposta da cody e di kingston nel main event abbiamo visto la forza di eger e luciasaurus che chi non l'ha vista è cieco l'è bellissimi scontro lo scontro stato non è spaziale il loro confronto non vedevo l'ora di vederlo in questo modo poi abbiamo visto i young bucks e baciare blade che tu dici sono rester tecnici che che usano più l'esperienza ma non avanti più l'esperienza che magari le le manovre quelle acrobali le manovre quelle più che magari possono cercare un impatto invece qua si sono messi al livello dei bucks hanno fatto secondo me un qualcosa di impressionante anche bacere blade davvero bello e questo fa benissimo al wrestling che ci hanno proposto tre modi di wrestling una puntata completamente diversi ma tutti e tre svolti benissimo ci tenevo a dirlo perché poi si legge ragazzi ci sono vari tipi di wrestling e qua ce l'hanno dimostrato tutto in una puntata serve anche questo ci tenevo a dire solo questo poi tu parla del finale vabbè no al finale hanno fatto il super spot i bucks dalle bocche dello stage di dynamite l'avevamo già visto si era lanciato tanto tempo fa nick con l'inner circle l'hanno riproposto doppio si sono lanciati tutti e due uno con la sua antona l'altro messa con monstrot no no con il dvng al ball drop non vola così tanto ma non so perché però il volante qua è nick però sono stati più decisi perché l'hanno fatto sul tavolo doppio doppio pinfall uno due tre muti muti facerebbe bello davvero bello sono un mix di tecnica di spot e anche di comicità che mi è piaciuta bellissimo perché poi forse da baci di blade dici ma forse parti un po prevenuto non possono fare invece lo bello 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 complimenti non solo ai bucks che secondo me ci mettono sempre qualcosa più a livello atletico e ci fanno vedere perché sono arrivati a questo qua e sta scritta che non mi sono messo a caso killing the business è mia ragionateci raggio killing the business ragionateci un po su questa cosa perché secondo me è molto importante poi fateci dalla vostra quest'altro i commenti passiamo oltre se no poi dobbiamo parlare adesso di altra roba che a te già iniziato a farti piangere 5 il componente di dark order affrontato hackman adam page che si è presentato privo di keny omega a differenza magari dei dark order che hanno sì mandato in un primo momento fai da solo ma poi durante la contesa tra page e come si chiama sto ragazzo aspetta che non è un angel è molto bravo però sono arrivati sulla rampa a differenza dei young bucks di keny omega che hanno lasciato da solo questo page te raccontalo tu che so che ce l'hai molto a cuore e non mi possono raccontare tutto ci hanno posteri hub in delete con le storie delle mail ai dark order parte tutta la laser non racconto tutto perché è un disastro chi vuole saperla ti segui sulla piattaforma viola qui sotto in descrizione pionia vi racconterà lo dirò nel mio video su talking elite pure ecco l'hai spiegato l'hai spiegato ieri durante la free action parte tutto da bing delete bing delete continua ad essere fondamentale se no dicono ma perché questo ha fatto 5 contro adam page comunque il match è bello alan angel è un piccolo talentino che tra l'altro ha fatto tanto tempo fa un match sempre a dark con keny omega bello anche questo è stato bravo anche con adam page ma il fulcro è il finale del match che succede ovviamente c'è l'assalto dopo che page ha schienato di tutti i dark order che stanno qui dopo che brodie lee ha preso il microfono in mano e ha detto a page di unirsi perché il famoso la famosa mail i dark order che mandò ad ampeggio per unirsi nel famoso periodo buio tutta storia di bing delete e ad ampeggio di no ma a me ormai non mi serve più io ormai sto bene sono campione sto vincendo chi se ne frega di voi ovviamente ha rifiuto i dark order non ci stanno e attaccano e per minuti non arriva nessuno cioè tu ti aspetti il compagno il tag team partner no keny omega che stava al bagno probabilmente ti aspetti i bugs ti aspetti i bugs ma non te li aspetti i bugs perché anche lì i bugs stanno facendo un altro lavoro a bing delete con peggio e ci sono ancora i dissapori tra i due quindi i bugs non te li aspetti però dici magari ci spero codi e ormai l'elite non sarà in cura giustamente assicurano lui perché ero qua chi 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 devono arrivare devono arrivare gli ftr e lì già la pugna è nata al cuore bello perché sto 3 contro 3 ormai è scritto ftr e peggio contro elite ormai è scritto più andiamo avanti più è scritto bello e poi arriva omega arriva omega dopo dopo che ha finito di fare la cacca e la popù se giro ha fatto oh ma stanno mostrando di botta il mio tampeggio perché non andiamo ad aiutarlo arriva dopo gli ftr dopo gli ftr hanno già salvato tampeggio che gli hanno hanno anche offerto la birra cioè questi ci hanno avuto pure il tempo di prendere una birra per la tampeggio e omega niente arriva dopo che poi guarda gli ftr con una faccia improponibile come di oh ma hai fatto prima voi oh io non so sono inutile qui l'immortacci tua che è in omega ora ce l'hai con mega ora ce l'hai con peggio e ora ce l'hai con mega però la pugnalata che mi ha dato omega facendo questa cosa è più grande è più grande è più grande aia finita la storia ce la faccio più dillo che è in omega a me dillo che è in omega a me bastardo fa non ce l'ho fatto cioè ok sono super emozionata al tre contro tre con mai scritto però che dolore al cuore che dolore al cuore bello comunque se lo stanno studiando io non so come faccio perché se ne sono 8 mesi sta cosa ci hanno avuto però il problema del covide però continuano a proporre l'hanno ripresa in un in un modo incredibile perché l'hanno ripresa sui line e io per due mesi sono stata insomma risolvere le vada di vederli insieme poi se stanno a ristaccare ma keny omega delle pugnalate le dà più forte di a tampeggio e tampeggio erano più io te l'avevo detto che keny omega sarebbe stato più bastardo che quelli ci hanno avuto tempo di prendere pure la birra hai capito che l'hanno pure aperta e keny omega è arrivato dopo grande keny omega passiamo passiamo al main event spaziale io lo definisco così quello tra lucia saurus e jungle boy contro chris jericho e jake hager ragazzi mi sono divertito davvero tanto io allora penso subito a fare complimenti no a jericho perché ormai sono scontati fanno tutti mi sono troppo le palle jericho mi è il demos god quindi va bene così faccio i complimenti a jungle boy perché ragazzi quello che si sono un po scontati ultimamente sapete quanto io stia stravedendo e jake un po che pure quasi è comportato benissimo ha tirato fuori due tre in manovre ok che a volte ha sfruttato anche il corpo di lucia saurus è fatto lanciare lo stesso lucia saurus ha fatto l'urca l'urca rana lì a fine a fine match è bellissimo ha tenuto testa gerico gli aggirato spettacolati però io i complimenti più grande li faccio a chi però a eger e lucia saurus che quando stavano uno contro l'altro mi dava la sensazione delle due big man cazzuti forse hacker non è tantissimo un big man perché per me i big man devono essere un po come lucia saurus braun stroman roma rinzi agger però non c'ha più panza e quello non è che c'ha un premio che c'ha più pazza poi ok che è muscoloso sulle gambe ok lei c'è sta però diciamo che adesso hacker lo voglio levare a big man per me anche lui un big man va bene sono stati bellissimi perché poi erano molto tec erano tecnici e studiupano un sacco di potenza usando il cervello perché a volte dice che vedi solo big man che non lo so non c'erano questi due invece quando stavano uno contro l'altro quando si prendevano appunti si lanciano da parte dall'altra se colpivano i calci perché lucia saurus non risparmia nessuno che come piava a calci che il gerico piava a calci pure agger che dice uno c'ha background delle mma magari parisci almeno no invece agger ha parito il sacco i calcioni di lucia saurus che lo lanciavo per lui a destra e a sinistra ma è stato bellissimo che ho visto proprio due mostri che mi hanno fatto riperti mostri inventi in termini big man che mi hanno fatto riperti io dico che sto facendo un lavoro straordinario alla all elite con i giurassic express perché ultimamente mi stanno piacendo tantissimo le hanno dato tanto tempo tanto minutaggio belle contese le erano fatte pure disputare sono partiti da lumberjack lucia saurus world lo stupendo e hanno continuato a fare contesi di altri livelli sono finiti nel main event contro grigerico e ne sono anche usciti bene perché alla fine hanno vinto sporchi con con l'arrivo del serpentico che anche lì signori è stato ingegnoso utilizzare la gimmick del serpentico perché perché ultimamente a darti stanno dando un sacco di spazio con luther ha fatto delle cose luther è o l'elite quindi serpentico l'ha in attimo arrivato un'antichetta di più dai soliti jobber ma un'antichetta e e arriva su serpentico che attacca e tu lì c'è poi crede un minimo e dici bombo puntano sul serpentico che stavole un i all inner circle era assurdo però per come è stato trattando serpentico che è un po più di poco poco più di troppo dice magari ci vogliono fa qualcosa cosa fa poi serpentico a una certa verso il finale del match serpentico scavalca le transenne prende la mazza di gerico in mano e la va a dare sulla nuca di luciano saurus che viene quindi stordito gerico la profitta core breaker c'è il tavolo di commento che dicono serpentico join inner circle cosa che cazzo ci fanno con lì e ripeto c'era credibile serpentico perché hanno fatto qualcosa di più a dark con serpentico e invece no sotto è tornato semi ghevara però c'è fatto caso che lui appena è entrato sul ring ghevara quando è entrato sul ring con maschile serpentico c'era i movimenti dei ghevara fuori no ma io ti dirò anche un'altra cosa serpentico e ghevara sono grandi amici serpentico ghevara e alonso so proprio amici quindi ci stava che semi ghevara è riuscito ad entrare nel personaggio di serpentico è stato tutto un ragionamento contorto cioè semi ghevara conosce serpentico sa esattamente imitarlo e serpentico l'hanno elevato leggermente per non arrivare dei segmentini a dark e quindi potevi dire magari ci puntano un minimo cerca di entrare nell'inner circle ci può stare perché comunque nel posto di amico ghevara no per dirsi vabbè sì ovviamente però un minimo c'è posta ha sfruttato l'astuzia nelle ultime puntate di dark potrebbe tentare l'approccio all'inner circle poi quando l'hanno fatto lo zoom l'occhio erano degli ghevara l'occhio erano degli ghevara e tu boom è tornato per non parlare della shulistar si vabbè pure lì ha detto ma le ha rubato la vostra perché lì shulistar si vedeva che io infatti ho scritto un chat da te oh quando ho visto shulistar ho detto questa che è semighevara perché con me va in alto e io quando ho visto l'occhio ho detto cazzo è semighevara è tornato semighevara contentissima ha fatto un bel ritorno a sorpresa preservando anche qui jungle boy e lucia sauros quindi ancora una volta un complimenti alla volet che li sta costruendo davvero ragazzi la volet costruisce le superstar questo è costruire e preservare e sono contenta di semighevara che non mancava da tanto perché ok un grande bel saluto a che è che è ritornato sono felicissimo di questa cosa qui poi giustamente l'inner circle continuano ad attaccare giurassi express ma a salvarli arriva orange cassidi con i best friends e ovviamente l'elite scappa seppur con il suo rispetto compiaciuto e poi ci annunciano questo 5 contro 5 per settimana prossima che da qua già si pronuncia essere una cosa spaziale tremenda incredibile 5 contro 5 10 uomini 5 contro 5 bellissimo bellissimo non vedo l'ora bellissimo ritorno anche di che varia gestito tutto quanto bene puntata puntata della madonna ma insomma quello che vi pare bellissimo straordinario varietà costruzione storyline belle belle invenzioni c'è stato tutto per tutti i gusti un gran bastardo spallicciate commentate condividete iscrivetevi ai canali qui sotto in descrizione trovate quello di peonia e peonia vi saluto con questo la metodo davvero è tutto più sweet ma che è da un peggio grazie a tutti